delusioni invece un po' più recenti per restare in anni un pochino più vicini a noi giusto per dire qualche nome che sono contenuti nel libro abbiamo Ibrahim Ba di cui si racconta il non so se fu uno striscione o un coro rubava le banane nel giardino di Weha Ibrahim Ba Ibrahim Ba proprio perché il giocatore ha avuto una storia lunghissima e tanti aneddoti tra cui si racconta ed è vero e comunque il Milan due anni fa lo riprese come una favola come fece con Esaias ma alla fine non giocò nemmeno una partita ed è diventato un portafortuna perché è sempre venuto al seguito dei grandi giocatori e ha portato fortuna tipo nella finale di Coppa Campione del 2007 poi abbiamo Dica del Catania che è arrivato portato da Zenga ma lo stesso Zenga non lo fece mai giocare e Riccardo Oliveira sempre del Milan considerato come l'ho definito io l'indegno erede di Shevchenko perché arrivò proprio per sostituire l'Ucraino ma realizzò solo tre gol grazie a tutti grazie a tutti